Buongiorno amici, rieccoci su Longevity Now, Longevity Now FL, il canale della salute, del benestere e della longevità. Io sono Luigi Fontana, medico, professore, direttore scientifico del Charles Perkins Center RPA Clinic dell'Università di Sydney in Australia. Oggi vorrei parlarvi di un argomento a me molto caro. Nei video precedenti abbiamo parlato di microbiota intestinale, del potenziale pericolo di saltare i pasti. Oggi invece parliamo appunto di istruzione e contemplazione filosofica come strumento importantissimo per lo sviluppo e la salute globale dell'umanità e degli esseri umani. Vedete, io penso che la salute e il benessere si ergono ben oltre la mera fisicità, emanando dalla profondità del nostro essere e irradiandosi attraverso le sfere familiari e sociali. Insomma, questo percorso di cura di cui abbiamo parlato in tutti questi video non si limita alla salute corporea e cerebrale, ma abbraccia anche la nostra intelligenza emotiva, la forza spirituale, nonché la nostra resilienza alle avversità e la capacità di godere appieno della vita. La medicina moderna in sinergia con sistemi educativi innovativi per intraprendere un cammino più illuminato dovrebbe evolversi verso un approccio più completo e integrato considerando l'intricato intreccio di aspetti metabolici, psicologici, spirituali, sociali e planetari del benessere. Solo in questo abbraccio olistico possiamo scoprire il potenziale per coltivare una salute e un benessere globale che si estende attraverso le reti interconnesse di individui e ambiente. Questo approccio universalistico alla salute riflette in parte le intuizioni di rari uomini, di rari filosofi illuminati, di cui menzionerò alcuni più avanti. Vedete, a differenza di coloro immersi nella discussione di concetti teologici fantasiosi, come per esempio i filosofi scolastici e neoscolastici o nelle teorie filosofiche astratte e prevalentemente utilitaristiche come il sensismo, il cantismo, il neocantismo, l'idealismo tedesco, l'ermeneutica, il materialismo, l'esistenzialismo, eccetera, eccetera, eccetera. Questi rari filosofi, a me cari, hanno posto l'accento sull'istruzione filosofica come chiave, sì come chiave di saggezza per un saper vivere bene, in armonia. Questi pensatori unici hanno cercato di comprendere come si possa vivere la vita in armonia con gli elementi naturali e universali, evitando un lessico ricercato e abbracciando la contemplazione come stile di vita. Questa prospettiva si contrappone, per l'appunto, a approcci specialistici, sempre più tecnici in ambito filosofico e distanti dalla realtà, ponendo l'accento sull'importanza di un'istruzione filosofica che conduca a una vita equilibrata, sana e felice. Come ho detto, questi filosofi illuminati, a me molto cari, che studio in continuazione, che mi piace ricordare in ordine temporale, Pitagora, Eraclito, Siddhartha, Protagora, Democrito, Socrate, Lao Tzu, Platone, Chuan Tzu, Epicuro, Patanjali, Lucrezio, Seneca, Epiteto, Marco Aurelio, Giordano Bruno, Spinosa e più recentemente Krishnamurti, questi uomini, questi saggi, hanno intuito, ognuno a modo suo, nel suo contesto socio-culturale storico, che vivere in sintonia con le leggi dell'universo implica allineare azioni, pensieri e valori con l'ordine naturale delle cose. Ripeto, vivere in sintonia con le leggi dell'universo, quindi capire le leggi dell'universo e metterle in pratica, implica allineare azioni, pensieri e valori con l'ordine naturale delle cose. La coltivazione di virtù come saggezza, compassione, altruismo, integrità e comprensione delle leggi naturali era considerata essenziale per raggiungere equilibrio e armonia, che dovrebbe essere anche al giorno d'oggi. Mentre alcuni, come Pitagora, cercarono di uniformare i principi filosofici alle leggi universali della salute e della malattia, con formule matematiche, questo più di duemila anni fa, oggi, grazie alla scienza, alle scoperte scientifiche in ambito fisico, astronomico, medico, abbiamo fatto progressi notevoli nella compressione dei meccanismi fisici, del funzionamento degli atomi genetici, epigenetici e molecolari che influenzano i processi naturali e fisici, inclusi quelli legati all'invecchiamento, alla salute e alla malattia, e quindi abbiamo una comprensione molto più avanzata di quello che poteva avere appunto Seneca, Marco Aurelio, Giordano Bruno e dovremmo fare tesoro di queste conoscenze per rivisitare alcuni dei loro pensieri, ma mantenendo comunque sempre al centro praticamente lo sviluppo dell'equilibrio dell'armonia. Infatti oggi comprendiamo che le leggi che regolano questi processi, sia all'interno dell'organismo umano che a livello degli equilibri planetari e del funzionamento delle galassie, dei sistemi solari delle galassie, comprendiamo che queste leggi che regolano appunto questi processi, sia nell'organizzazione appunto degli esseri viventi che della natura e delle galassie, non sono arbitrarie o capricciose, ma governano i processi chimici, biochimici, atomici, metabolici, fisiologici, così come gli eventi causali che guidano i modelli dell'esistenza e i ritmi della natura e del cosmo. Se comprendiamo e ci sintonizziamo su queste leggi eterne, si ritiene che ogni individuo saggio possa trovare guida, salute, benessere e significato nella vita. Questo è la nuova filosofia. Io ritengo che gli studi filosofici di questo tipo, e non quelli astrusi, abbiano il potere di plasmare profondamente il nostro pensiero, le emozioni e il comportamento, permettendoci di esaminare in modo logico e critico le motivazioni dietro i nostri pensieri, le azioni, le abitudini e le compulsioni che possono ostacolare il nostro progresso verso un percorso di salute, benessere, serenità e serenità interiore. Ripeto, io ritengo che questa nuova rivisitazione di questi filosofi, in parte antichi, con le conoscenze che abbiamo acquisito al giorno d'oggi, grazie alla scienza, abbiano il potere di plasmare in maniera profonda i nostri pensieri e quindi le emozioni e il comportamento, permettendoci di esaminare in modo logico e critico le motivazioni dietro i nostri pensieri, le azioni, le abitudini e le compulsioni che spesso ostacolano il nostro progresso verso un percorso di salute, benessere e serenità interiore. Questo viaggio filosofico si evolve in un percorso di autoscoperta e crescita personale, tracciando una curva di sviluppo e di evoluzione. Inoltre, la filosofia, questo tipo di filosofia, conferisce flessibilità nell'affrontare gli eventi della vita, sì, flessibilità, promuovendo un equilibrio emotivo attraverso una prospettiva più ampia. Ci spinge a considerare le situazioni a diverse prospettive, costruendo resilienza di fronte alle sfide che incontriamo. Queste pratiche filosofiche e spirituali svolgono un ruolo cruciale nel navigare attraverso le fluttuazioni della vita, fungendo da custodi dell'armonia interiore, della forza d'animo e della resilienza. L'importanza di abbracciare la vita nella sua totalità emerge come un tema centrale, invitandoci a superare prospettive limitate e ad esplorare tutte le sfaccettature dell'esistenza per comprendere appieno la sua profondità e bellezza. Questa prospettiva integrata ci guida verso una connessione più profonda con noi stessi e con il mondo che ci circonda, aprendo la strada a una vita di significato e realizzazione. Vorrei concludere questo video citando un passaggio del libro A se stesso o Meditazioni dell'imperatore filosofo stoico Marco Aurelio che oltre duemila anni fa scrisse. Alcune persone cercano la pace in luoghi remoti, campagne, lidi marini e montagne e anche tu spesso desideri fortemente tale isolamento. Ma questo è tipico di chi non ha la minima educazione filosofica poiché è possibile in qualsiasi momento lo si desideri ritirarsi in se stessi. Perché un uomo non può ritirarsi in un luogo più quieto o indisturbato della propria anima, soprattutto chi ha dentro principi tali che gli basta affondarvi lo sguardo per raggiungere subito la pace e il pieno benessere. Questo è un passaggio bellissimo. Soprattutto chi ha dentro principi tali che gli basta affondarvi lo sguardo per raggiungere subito la pace e il pieno benessere. E per benessere non intendo altro che il giusto ordine interiore. E lasciatemi aggiungere il giusto equilibrio metabolico e molecolare legato alla comprensione e attuazione di corretti stili di vita in linea con le leggi e meccanismi cellulari che regolano i processi di salute e longevità. Quindi conclude Marco Aurelio la salute e la pace interiore sono il luogo in cui ci si prende cura di se stessi. La salute e la pace interiore sono il luogo in cui ci si prende cura di se stessi. Pertanto impara a dedicare del tempo e a concederti continuamente questo ritiro dentro di te, rinnovandoti continuamente. E con questo pensiero molto bello, molto elevato di Marco Aurelio vi saluto per oggi è tutto. Spero che queste riflessioni possano essere spunto per iniziare un nuovo percorso di studio, di scoperta, appunto per, come diceva Marco Aurelio, creare quelle condizioni che permettono a una persona di immergersi in se stessi e trovare questa pace e questo ordine interiore. Come sempre questo è Longevity Now, Longevity Now FL, il canale della salute, del benessere e della longevità. Io sono Luigi Fontana, medico, professore di medicina, direttore scientifico del Charles Perkins Center RPA Clinic, del programma di salute e longevità Health for Life e un accademico clinico nel dipartimento di endocrinologia del Royal Prince Alfred Hospital di Sydney. Per oggi è tutto, vi saluto e vi ringrazio.